Il mese è dedicato all'orientamento, ci siamo interfacciati con tutte le scuole della provincia, le scuole medie che ci hanno accolto e che hanno fatto un bellissimo orientamento all'interno delle loro scuole, orientando e portando i ragazzi alla scelta. Aumento delle iscrizioni nella nostra scuola, l'endusiasmo in modo esponenziale, abbiamo avuto un aumento dell'iscrizione e delle famiglie che sono venute a trovarci. Abbiamo comunicato ai dirigenti scolastici l'importanza del codice meccanografico e di conseguenza di avvisare tutti i ragazzi che prima di iscriversi alla scuola superiore devono verificare il codice meccanografico di ogni scuola. Continuano ancora i corsi di recupero gratuiti offerti dall'Euroform nei paesi come Canigattì, Ravanusa, Campobello e Delia. I ragazzi che affluiscono sono tantissimo il supporto che Euroform e che i nostri docenti stanno dando a questi ragazzi al fine di affrontare l'ultimo anno scolastico che è la terza media per poi fare la loro scelta. Insieme ai corsi di recupero c'è stata molta richiesta per quanto riguarda l'informatica, all'alfabetizzazione informatica. I dirigenti sono stati veramente entusiasti nell'accogliere questo progetto e in particolare a Delia e a Sommatino inizieremo già dalla prossima settimana questo percorso insieme ai ragazzi della scuola media. Vi aspettiamo in una delle tantissime sedi regionali dell'Euroform ma in particolare vi aspettiamo a Canigattì, siamo qui tutti i pomeriggi, compreso anche il sabato mattina, per indicare il percorso migliore, il percorso didattico per i vostri figli. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.